un operatore alleato rimasto ma cosa ci faceva qui shh 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 benvenuti signori come avete appena visto dall'intro si preannuncia una partita molto succosa rimanete incontrate lo schermo e godetevela vi chiedo scusa in anticipo per l'audio basso dei compagni e del gioco ma sto cercando di impostare per bene il programma di registrazione e questa partita è uscita un pelo bassa ma che mi vuoi tacco il mio dato mi ti dai chi si ma dove do cazzo è sta cam eh no ma non ci caveira caveira ecco esatto ma appena fatto vigil minchia si 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 hanno aperto e hanno aperto scale ottimo olè no ma l'hai visto l'ho preso in faccia da scale da scale fatto minchia mi hai fatto cagare addosso asci ragazze ok mai restato ok 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 si ce l'ho io aspetta che controllo scale aspetta che controllo scale vabbè ok volevo controllare sale se per caso era all'esterno ma bravo kill oh perché ho visto un un laser qua sì vabbè one tap cioè hash sotto in è uno v due all'esterno sì ma mi sa che è entrato questi lo pushano in due non lo so shut the fuck up ok merda ma ma cosa ci faceva qui shh 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 ooooh oh 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 che mega claccio figa mamma mia signori Sai cosa? Secondo me Pushiamo da dietro Da qua Dove? Secondo me Push Gli ho visto nei piedi È là È dentro in obiettivo Cerco di coprirti io È là È là in fondo È là È là È là È uscito È andato in obiettivo Dai sporgiti figlio di puttana Fatto Ci provo Andato 3v5 3v5 Signori GG Cioè Signori Come avete visto Il primo round Ho fatto un po' schifo Ma nel finale Mi sono riscattato Abbastanza Ed ora Siamo giunti come sempre Alla fine del video Lasciate 20 like Se vi piace il mio canale Ricordo di attivare la campanellina E condividerlo con tutti i vostri amici E noi Ci vediamo Alla prossima 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 Grazie.